Sì, 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 sì è un'attacco non è un'attacco è un'attacco è un'attacco è un'attacco ovviamente oppo oppo l'anno così è un'attacco qui è un'attacco è un'attacco Non, 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 no! Non, non, non! Si ceva magari ad好不好? Di Guidke, come! Ahhhh! Aligni mo eh! Adulis d'yan! Adulis d'yan! Adulis d'yan! Adulis! Adulis d'yan! Adulis Opo ka d'un per l'eca d'yan eh! D'uomo d'eco! Ini Si manda a'yo arbeta Magandain a a a a a a hai capito hai 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 kakina tuto yung panguntra mo lang, nabasa na gawa na mameng? bawa na ako wag na, bayan mo na lang dibilad na lang natin hai? hasang na mo nadalala shhhh, wag kay na tuto ako patakpo pata ayan, ganyan lang kayo upo upo lang Un'abbò, un'abbò, un'abbò. grazie a tutti 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 grazie a tutti